In via arborea Sassari, Gustavignos, il Wine Bar, un locale davvero particolare ed arredato con gusto che impreziosisce il centro storico sassarese, in cui consumare i tuoi pranzi a basso costo ma soprattutto potendo gustare i vini della fornitissima ed affascinante cantina. E il giovedì si cambia, tutti i giovedì happy hour a base di piatti messicani che incendiano la tua serata, paghi soltanto la consumazione 5 euro e poi mangi gratis. E per le feste di laurea, organizzazione impeccabile e una sala ampia e caratteristica.